ciao a tutti ragazzi allora oggi vi parlo di un grande pittore tra il 1200 e 1300 che è stato un discepolo di Giotto ed è noto perché è stato probabilmente uno dei più grandi pittori del 1300 dopo Giotto ed è uno dei pochi pittori tra l'altro che comunque del 1300 del fatto che non si sa ancora la sua data di nascita e la sua data di morte si sa che però è stato attivo tra tra il 1200-1300 quello sì e questo pittore si chiama Puccio Capanna e oggi vi parlo di Puccio Capanna allora Puccio Capanna è appunto il problema di questo pittore che non si sa la sua data di nascita e non si sa neanche la sua data di morte probabilmente è morto verso il 1348 quando c'è stata la peste nera perché non si hanno più documenti che testimoniano il fatto che lui avesse lavorato anche in quegli anni lì ecco Puccio Capanna è stato un discepolo di Giotto e principalmente lui ha lavorato nella basilica inferiore di San Francesco d'Assisi ha lavorato lì fino al 1319 perché ad un certo punto hanno smesso ci furono delle interruzioni di lavoro quindi Puccio Capanna dal 1319 fino al 1330 andò a Firenze con il suo maestro Giotto e torna nel 1330 a dipingere per dipingere gli affreschi della basilica inferiore di San Francesco d'Assisi e fece una bellissima incoronazione della Vergine che è una incoronazione molto particolare perché come vedete lì si vede proprio l'insegnamento che è Puccio Capanna con Giotto perché qua si vede appunto la rottura degli schemi la rottura degli schemi dell'arte bizantina la rottura di non rappresentare più lo sfondo or ma utilizzare lo sfondo blu lo sfondo blu che sta per il cielo per il cielo eccetera quindi qui appunto si vede proprio lo stile di Giotto e oltre a questo affresco poi c'è un bellissimo affresco che anzi una serie di affreschi che sono le storie di San Stanislao questo che vi faccio vedere è la scena del miracolo di San Stanislao e lì appunto si vede appunto l'artista che prende ispirazione dallo stile di Giotto appunto il fatto di rappresentare la realtà senza utilizzare lo sfondo oro come ha utilizzato nell'arte bizantina e appunto c'è l'idea di rappresentare di utilizzare di utilizzare al meglio la prospettiva non la prospettiva quattrocentesca ma comunque la prospettiva quella giottesca comunque che aveva come dire migliorato Giotto appunto c'è un estremo realismo dei personaggi questo dipinto eccetera una cosa interessante di Pulcio Capanna che è una cosa tipica dei pittori comunque del 1300 quindi stiamo parlando di comunque di pittori molto antichi dove i documenti d'archivio sono sempre meno le datazioni sono ancora incerte eccetera ecco Pulcio Capanna è stato studiato e approfondito dai numerevoli storici dell'arte un esempio di uno storico dell'arte che ha studiato Pulcio Capanna è Roberto Longhi Roberto Longhi che è uno storico dell'arte ha scritto dei testi di Pulcio Capanna che si trovano nel suo saggio fatti di Masolino e di Masaccio che è un libro che l'ha scritto nel 1940 è un altro testo importante dove appunto Roberto Longhi cita Pulcio Capanna è un testo famoso è un saggio su Stefano da Fiorentino è un saggio che Roberto Longhi scrive su Pulcio Capanna e su Stefano Fiorentino che secondo lui alcune opere di Pulcio Capanna che attualmente la critica artistica ritiene ritiene che siano di Pulcio Capanna secondo Roberto Longhi alcuni sono appunto di Stefano Fiorentino che tra l'altro è un pittore che l'ho citato in un video dove spiegavo appunto di Stefano Fiorentino che ha dipinto probabilmente alcuni affreschi nella Basilica di Chiara Valle un'altra cosa interessante da sapere di Pulcio Capanna è che gli affreschi della parte inferiore della Basilica di San Francesco d'Assisi sono stati studiati da innumerevoli storici dell'arte in particolare dagli storici dell'arte del Novecento per esempio Pietro Toesca nel 1929 credeva che alcune opere che adesso sono attribuiti a Pulcio Capanna fossero pensava pensava che fossero opere di Maso di Banco mentre un altro storico dell'arte che fu Lionello Venturi invece lui avanzava l'ipotesi che queste opere che queste opere secondo lui non erano di Pulcio Capanna ma erano di Stefano Fiorentino poi ecco come altri pittori del riscoperti come Caravaggio eccetera Pulcio Capanna è stato messo in rilievo dal grandissimo Roberto Longhi intorno agli anni 40 anni 50 e nel Novecento che secondo lui considerava gli affreschi di Pulcio Capanna di grandissima importanza artistica ecco un altro storico dell'arte per esempio Carlo Ludovico Ragghianti in molti dei suoi testi di critica artistica ha attribuito quest'opera di Puccio Capanna ad un altro grande pittore di giottesco tra la fine del 300 e l'inizio del 1400 che si chiama Altichiero interessante da sapere poi di Puccio Capanna e che fu influenzato anche dalla pittura senese infatti Puccio Capanna lavorò contemporaneamente con Simone Martini come dimostra come si come come lo dimostra la ricchezza cromatica nelle sue opere unita a una solida spazialità spazialità negli affreschi anche se si è tardato molto a identificare il il valore artistico di Puccio Capanna la critica ha già ampliamente sottolineato l'eccezionale valore artistico delle opere del Capanna questo maestro ritenuto per esempio da uno studioso che si chiama Coletti Coletti lo considera il maggior colorista del 300 italiano e da un altro e poi da un altro da un altro studioso che si chiama Scarpellini viene considerato il grande precursore di Masaccio e in questo senso il suo stile di Puccio Capanna può essere considerato di origine in parte fiorentina chiaramente molte opere di Puccio Capanna sono ancora in fase di ricerca di studi di approfondimento di attribuzioni delle sue opere d'arte ecco un paio di cose prima di concludere il video sono queste che una cosa interessante di Puccio Capanna è che lui è stato il primo a rappresentare Dante Alighieri come vedete in questa immagine è il ritratto di Dante Alighieri ed è probabilmente è stato il primissimo nella storia della pittura un'altra cosa interessante da sapere di Puccio Capanna è che nel novembre del 1341 Puccio partecipò con l'allievo Cecce di Saraceno che è stato un pittore del 1300 partecipò a un concorso bandito dal comune di Assisi per l'esecuzione di due maestà pubbliche e in questo modo Puccio ottenne l'incarico perché chiese il compenso più basso tra i partecipanti questo è un evento un po' particolare di Puccio Capanna e con queste informazioni io concludo il video fatemi sapere cosa ne pensate di Puccio Capanna ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi